Il restauro è una delle aree in cui l'Italia eccelle in tutto il mondo. Noi insegniamo e portiamo le nostre tecnologie, il nostro social warfare, anche le capacità più umane. Abbiamo cantieri in Cina, in Iran, in Iraq, anche nelle zone particolarmente insensibili dove c'è da recuperare tesori, l'identità dei paesi, la cultura. C'è una grande attenzione in tutto il mondo, evidentemente, alla cultura, al bello. L'Italia è di gran lunga il paese più importante dal punto di vista culturale. Abbiamo una grande responsabilità, quella proprio di tutelare questo enorme patrimonio fisico che abbiamo ereditato. Quindi noi abbiamo le migliori esperienze in assoluto che, ripeto, sono qui poi in questa fiera esposte e danno un esempio di quanto sia importante anche la filiera economica legata a questo settore perché sono moltissime aziende che lavorano, moltissimi uomini che lavorano, moltissime donne che lavorano. E per noi, per il Ministero, noi abbiamo istituti di restauro importantissimi. È un'area di confronto fondamentale a livello internazionale. Grazie. 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 Grazie.